La forza di volontà è una qualità importante che ci permette di raggiungere i nostri obiettivi e di resistere alle tentazioni. Ecco alcuni consigli che potrebbero aiutarti a aumentare la tua forza di volontà. Scegli obiettivi specifici e misurabili, è più facile mantenere la motivazione e la forza di volontà quando sai esattamente cosa vuoi ottenere. Crea un piano d'azione, dividi i tuoi obiettivi in passi più piccoli e crea un piano per raggiungerli. Questo ti darà una sensazione di progresso e ti aiuterà a rimanere motivato. Trova una fonte di motivazione, trova qualcosa che ti dia la spinta necessaria per continuare a lavorare verso i tuoi obiettivi, come una persona che ti ispira o una causa che ti appassiona. Elimina le distrazioni, cerca di ridurre al minimo le distrazioni che potrebbero impedirti di concentrarti sui tuoi obiettivi. Potrebbe essere utile disattivare le notifiche del telefono o creare un ambiente di lavoro privo di distrazioni. Sii gentile con te stesso, non aspettarti di essere perfetto e non essere troppo duro con te stesso quando commetti errori. Ricorda che l'imperfezione fa parte del processo di crescita e di apprendimento. Sviluppa una routine. Avere una routine può aiutare a mantenere la motivazione e la forza di volontà, poiché ci permette di sapere esattamente cosa fare ogni giorno. Prenditi cura di te stesso, assicurati di avere abbastanza sonno, di mangiare in modo sano e di fare esercizio fisico regolarmente. Questi elementi possono aiutare a migliorare la tua salute generale e aumentare la tua energia e la tua motivazione.